Musica Anche quest'anno Essere Sovria presenta un ricchissimo programma di iniziative che vanno dal sociale al culturale, agli eventi enogastronomici, alla musica, allo spettacolo e agli eventi sportivi. Un panorama ricchissimo che ha in qualche modo confermato le manifestazioni storiche, dall'università d'estate al teatro, agli eventi culturali, alle manifestazioni appunto gastronomiche, che avrà ospiti di primissimo piano e che peraltro si prolungherà anche oltre agosto con una serie di iniziative che verranno fatte anche a settembre per allungare la stagione e mantenere vivo il cartellone delle proposte di Sovria e Mannelli. Grazie a tutti.